donatella milani la storia di una vita dedicata al canto donatella milani cantautrice toscana ha segnato la musica italiana degli anni 80 con i suoi successi dopo esordi allo zecchino d'oro e vittori al festival di castrocaro e al festival di sanremo la sua carriera ha subito una battuta d'arresto a causa di problemi fisici alle corde vocali nata da rezzo nel 1963 donatella ha sempre avuto una passione per il canto che l'ha portata a scrivere successi come su di noi e volevo dirti nonostante le difficoltà fisiche ha continuato a lavorare nel mondo della musica come autrice e talent scout dopo un periodo di pausa dovuto a problemi familiari donatella ha affrontato la depressione e un incidente d'auto nel 2022 fortunatamente ha superato anche queste difficoltà e è tornata al lavoro nel mondo della musica come autrice e vocal coach la sua storia è fatta di successi ma anche di momenti difficili e dolorosi donatella ha raccontato di aver perso la madre e di non conoscere l'identità del padre ma ha sempre trovato la forza di andare avanti oggi donatella milani continua a lavorare nel mondo della musica con la sua voce e la sua esperienza che continuano a ispirare nuove generazioni di artisti so che la sua eliminazione non è potente nessuna sia settore il canto e di risiliare a forza di volontà può ricordo il nostro canale il nostro canale Grazie a tutti.